Mary Jane ASMR Ciao 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 Ragazzi, ciao a tutti, 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 tutti Come state? Spero abbiate passato una buona festa Una buona immacolata Mi guardo il rossetto che è un po' sbocato, ma va bene Un video un po' così questo post live ASMR In... Fatto in notte fonda Sono l'una e un quarto cerchio E sono qui per voi Per farmi, 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 farmi Rilassare Perché è quello che meritate Spero stiate bene, ragazzi E approfitto anche con il ringraziarvi Perché il canale sta crescendo tantissimo E sono davvero entusiasta E felice La mia gioia è immensa Sono davvero contenta Quindi... Love, love, love Grazie a tutti A ciascuno di voi Meritate Meritate Tante, 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 tante Tante carezze Carezze, 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 carezze All'infinito All'infinito E oltre Io sto trascorrendo, ragazzi Dei giorni bellissimi Sì Molto Tranquille In famiglia Con i miei affetti Con le persone più care Spero sia così Anche per voi Avete già indossato gli auricolari? Se no, indossateli Per rilassarvi meglio Per rilassarvi meglio E facciamo Brushing Questo non ce li hai Di strass dentro qui Facciamo un po' di brushing Mink Sa di massaggio Alle Alle Orecchie E mi accompagno con i toncli In che manzano E mi accompagno con i toncli In che manzano Ticca 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 tic tickle 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 tiこ 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 relax 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 va molto freddo qui da me ragazzi pare sembra debba arrivare la neve ma non arriva mai ma fa freddissimo c'è un tempo assurdo fuori voi direte giustamente siamo a dicembre se non fa freddo adesso quando? però io preferisco più l'impasto ma lui è l'imian ok 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 attenzione perché questo è un video altamente soporifero per quanto mi riguarda ok 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 ormai quando registro la notte becco quasi sempre le serate ragazzi col ventaccio ok ok ci fa sempre compagnia il vento ragazzi il vento è sempre qua ok 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 iscriviti al canale 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 iscriviti al canale